Una donna in grado di sedurre, in grado di conquistare, perché la femme fatale, la femme fatale è una donna che sa sedurre, che sa conquistare in modo naturale. E direi la seduttrice per antonomasia, la seduttrice della quale tutti gli uomini si innamorano, della quale tutti gli uomini sono collegati, della quale tutti gli uomini sono strettamente connessi fondamentalmente. Quindi è veramente molto importante per una donna imparare a diventare una femme fatale. Acquisire queste capacità è veramente cosa buona e giusta, diciamo, perché ti consentirà naturalmente, senza nessuna strategia, senza nessuna tattica, salutiamo anche Crazy Robby, senza nessuna tattica particolare, di attrarre tutti gli uomini che ti piacciono, di attrarre tutti gli uomini che desideri, rapidamente, senza problemi. E questo è il vero, il vero, diciamo, la vera abilità della femme fatale. Ovviamente quali sono le caratteristiche? Sono caratteristiche complesse, direi, che richiedono non essere, diciamo, una azoccolata. Questo è tutto il contrario della femme fatale. La femme fatale è una donna che, ad esempio, ha capacità gastronomiche, che ha capacità relazionali, che ha uno stile di vita raffinato, che ha un modo di, diciamo, di un modo di muoversi, di un modo di, diciamo, di un body language, di cultura, salutiamo anche Roxy Rosa, di raffinatezza. Quindi la vera femme fatale ha capacità gastronomiche, ha capacità relazionali, è una donna raffinata, è una donna che sa quello che vuole, ovviamente. Per quanto riguarda, diciamo, le tue abilità culinarie della femme fatale, molte, molte, molte donne o molte persone dicono, e vabbè, ma cosa c'entra le femme fatale? Magari non sono donne cuciniere, possono essere tranquillamente donne che mangiano e non che non cucinano. Però in realtà non è così. Indipendentemente dallo stile di vita, dalla ricchezza, questa di accudire, diciamo, attraverso soprattutto il cibo è una delle qualità fondamentali, diciamo, una delle qualità importanti. Non è che devi essere, diciamo, una grande chef, ma saper cucinare delle ricette, diciamo, accattivanti, succulente, ma non, anche qua, la raffinatezza del cucinare è un punto fondamentale. Beh, esempi di femme fatale ne vedremo, ma anche una donna che sa essere tranquilla, serena, cordiale, le donne agitate, le donne sempre... Sì, non è solo l'abilità di saper cucinare, questa è una delle skills, ma è unita, diciamo, all'essere raffinata, tranquilla, serena, cordiale, gentile, non pedante fondamentalmente, con una cultura anche elevata. Queste sono tutte cose fondamentali. D'altra parte teniamo presente che un uomo può anche essere sedotto a tavola fondamentalmente, un uomo può anche essere sedotto a tavola. Allora, partendo dal presupposto che la Panterona, il troione da competizione, diciamo, non seduce, se non che ha letto, e viene cercata soltanto per quello, sicuramente la Panterona è una donna sicura di sé, ma deve essere, diciamo, deve essere... deve unire altre caratteristiche perché questo non funziona. Mentre invece la Fan Fatale è una donna che non soltanto sa cucinare, ma che anche sa anche star seduta a tavola, perché tu potresti essere una brava cuciniera, poi mangi come una troglodita, ingrassi come una zampogna, mentre invece la Fan Fatale, ecco, potrei dire questo, ha la capacità di essere signorile, ha la capacità di essere raffinata, ha la capacità anche, ad esempio, a tavola di avere delle caratteristiche, cioè non devi, diciamo, come possiamo dire, stare a tavola come ci starebbe un catramista, sul tavolo, ad esempio, non si appoggiano mai i gomiti, no? Quelle che, bah, magnano come... ma deve dovesse appoggiare eventualmente solo l'avambraccio, non so che sa, rispettare le regole fondamentali del bon ton fondamentalmente, non parlare col cibo in bocca fondamentalmente, non bere come se non ci fosse un domani, la donna che beve o fuma non è seducente, se bevi e che fumi non sei assolutamente una fan fatale, sei una troglodita, sei semplicemente una troglodita. Per sedurre un uomo a tavola, diciamo, ci sono diverse, diverse cose, no? Che puoi fare. Ovviamente non è che devi fare cibi afrodisiaci, non deve essere questo l'unica cosa che tu sai fare, insomma. Il cibo afrodisiaco è una... l'avvinazzata, l'avvinazzata non è una che... una che seduce. Non devi neanche cercare cibi afrodisiaci, no? Ovviamente il cibo afrodisiaco non esiste, dipende, diciamo, afrodisiaco deriva da afrodite, la dea dell'amore, della bellezza e della fertilità nella mitologia greca. Ma non sono questi, non esistono, no? Perché se vai a vedere, mi sono anche dilettato, no? Di andare a vedere, perché mi piace curiosare, andare a vedere delle pozioni magiche, no? Andare a vedere delle pozioni magiche di cibi. Scusate, devo pulire un attimino gli occhiali. Ogni tanto bisogna dare una pulita. le ricette, tanto mi vedete senza occhiali, per un secondo, le ricette dei cibi magici, diciamo, afrodisiaci, secondo me sono delle merite minchiate e anche delle puttanate assicurate. Ad esempio, ci sono, che ne so, il corno di rinoceronte, lo sperma di cervo. Certo, magari se uno si beve lo sperma di cervo potrebbe essere afrodisiaco, oppure il sangue del serpente, che poi non so se hanno sangue. Salutiamo Sissi, sullo sperma di cervo è apparsa Sissi. L'urina del babbuino, potrete anche bervi l'urina del babbuino per sedurre un uomo, sono tutte puttanate. Se vuoi diventare la pozione magica, se vuoi diventare una fan fatale, devi essere una donna soprattutto che non si scoraggia, che ama le sfide. Quindi, questo è un punto fondamentale, che sa cucinare, ma che non fa della cucina la sua predilezione totale, ovviamente. Però un uomo può essere sedotto anche, anche diciamo, può essere sedotto anche, come possiamo dire, in modo, può essere sedotto anche a tavola. Poi ci sono alcuni che credono, che esistono dei cibi afrodisiaci. Qualcuno dice ad esempio, come possiamo dire, qualcuno dice ad esempio, come possiamo dire, il cioccolato fondente, fondamentalmente, il cioccolato fondente, il cioccolato fondente, qualcuno dice che può essere afrodisiaco, io non lo so, sinceramente. Questa fama, dicono, che contiene la fenil-tieramina, no? che sarebbe un ormone, diciamo, che dovrebbe stimolare, aumentare il desiderio sessuale. Però, sinceramente, non credo che, manco il cioccolato, può servire a qualcosa, insomma, non è che, se quello mangia il cioccolato, diventa, anzi, probabilmente, fa magari l'effetto contrario, non lo so. secondo me, tutta questa storia dei cibi afrodisiaci perse d'un uomo col cibo, qualcuno dice il sedano, il sedano, dicono, che contiene delle sostanze simili ai ferormoni, per cui, attraverso, diciamo, l'olfatto, soprattutto, attraverso l'olfatto, comunque, ad esempio, i romani consacravano il sedano a Plutone, no? Plutone, che era il dio degli inferi, il dio dell'inferno, ma era anche il dio della fecondità. Poi, ovviamente, ci sono, dicono, altri cibi, no? Che possono essere afrodisiaci, ma, come ad esempio, l'aglio e cipolla, però, diciamo, che se tu mangi aglio e cipolla, come dire, o gli fai mangiare aglio e cipolla, gli viene un alito che ammazzerebbe pure i vampiri, per cui, non... Poi ci sono anche delle altre fake news, secondo me, quando dicono cozze, aragosta, ostriche, eccetera, sono tutte cagate assurde, secondo me, che non portano nulla. Quindi, io lascierei perdere questa storia dei cibi, poi, ognuno mangia quello che vuole, però, se tu devi sedurlo attraverso il cibo, devi, come possiamo dire, somministrargli del cibo leggero e non farlo mangiare come un, diciamo, come possiamo dire, come l'orso yogi, fondamentalmente, no? Dosa le porzioni. Mangiare troppo, ad esempio, provoca sonnolenza, no? Quindi, quello si addormenta. Quindi, anche lo stesso discorso vale per il vino, il vino è l'anti-afrodisiaco, no? Il vino è l'anti-afrodisiaco per eccellenza, l'anti-afrodisiaco. Se ne bevi troppo, se ne bevi un bicchiere, questo non funziona. Quindi, però, diciamo, una donna, una fan fatale, sa, almeno, non dico che deve sapere il galateo a memoria, ma dovrebbe sapere almeno la buona educazione della tavola. Quindi, non deve soltanto cucinare, non deve soltanto preparare la tavola, ma deve avere anche, anche la capacità di, come possiamo dire, di avere un po' di bon ton. Quindi, questo è fondamentale, soprattutto quando vai a cena fuori, che non fai la figura di una, come dire, primitiva, fondamentalmente. Il vino, dice, crazy, robbi, probabilmente perché toglie le inibizioni, certo, perché probabilmente sei inibito, e quindi l'inibizione, perché il vino di suo non, quello che fai, che sicuramente può togliere l'inibizione. ovviamente un'altra cosa, un'altra caratteristica della femme fatale è l'ordine, ad esempio, è l'ordine. Cioè, se tu sei una donna che a casa sua tiene tutti in disordine, già gli uomini di loro sono disordinati. Se tu sei una disordinata che lascia tutto in disordine, diciamo, non ha stile nell'arredare il proprio appartamento, mette tutto affastellato, che ne so, non è sicuramente una femme fatale, lo è a 360 gradi, fondamentalmente. Quindi anche la capacità, che ne so, di tenere in ordine la casa, arredare la casa, non è che devi fare chissà cosa, però ordine, pulizia, salutiamo Crazy Robby. Ordine pulizia, secondo me, per una donna, anche per un uomo, ovviamente, ma tenere la casa ordinata, pulita, e magari arredata con gusto, ovviamente, può essere, fa parte, fa parte della classe, fondamentalmente, no? Cioè, ordine pulizia, e arredamento, arredato con gusto, perché le donne disordinate, le donne che buttano tutta all'aria, che lasciano tutta a mezzo, che ne so, i piatti da lavare, le forchette da lavare, cioè, già ci sono gli uomini che normalmente fanno questo, per cui una donna, una femme fatale, non deve fare casino, e deve avere anche una casa arredata con gusto, nel momento che se qualcuno va a casa sua, non deve pensare di essere in una caserma, che ne so, sul fronte, la caserma, come si chiamava quella lì, delle traversette, no? Quella famosa caserma sopra Torino, no? Il colle delle traversette, che c'era una caserma talmente spartana in montagna, che non ha funzionato, perché era talmente protetta, che nessuno l'ha mai attaccata, però andavi lì dentro e appunto era una caserma, non deve avere una casa, non una caserma, ordinata, tutte le cose al suo posto, insomma, perché una donna deve esprimere la sua femminità anche attraverso le cose, no? Poi è anche importante il sicuramente anche come parli, perché essere fan fatale non è, diciamo, non sono solo qualità esteriori, ma sono anche qualità conversazionali, non è che una fan fatale è soltanto una che mette Gepier, tacchi, che ne so, Rimmel, reggi calze, scarpe con i tacchi altissimi, tutto questo è qualcosa che può essere utile, diciamo, ma non fa la fan fatale, ad esempio, invece, la conversazione è un qualcosa che può essere fondamentale, no? Se sei intelligente come una rana bollita, beh, difficilmente riuscirai a conquistare, difficilmente riuscirai a conquistare, a sedurre qualcuno, no? Quindi, ma anche Marilyn Monroe, che era sicuramente da un suo certo punto di vista una donna seduttiva, un'icona di seduttività, faceva finta di essere un'oca, ma non era un'oca, faceva finta di essere un'oca. Quindi, la cultura è anche un qualcosa di importante, no? cultura non è detto che sia collegata alla scolarizzazione, per carità. La cultura è un qualcosa che va oltre la scolarizzazione. Certo è che se, come dire, hai studiato al Cepuli, dove cavolo hai studiato, insomma, è più probabile che magari forse devi migliorare un pochettino, no? come dire, la cultura è qualcosa a 360 gradi che non si finisce mai di imparare, quindi non credo che sia soltanto una cosa di scolarizzazione. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che la donna, la femme fatale non è non è una un simil Barbie, modello Barbie, bionda, bella, ma è una donna che è sicuramente femminile, sensuale, ma anche raffinata, colta, intelligente. L'intelligenza è che cos'è? L'intelligenza è la capacità di adattarsi fondamentalmente all'ambiente nel quale si vive e queste sono tutte caratteristiche che no? che tu dovresti dovresti sviluppare. La Bellucci vedendola così potrebbe sicuramente essere una femme fatale, ma mi viene in mente non so, di attrici del passato, ma anche Claudia Cardinale secondo me, ma poi la stessa Sofia Loren degli ultimi io parlo di magari oggi diciamo di attrici moderne o ne vedo o non ne vedo sinceramente tante, però ce ne possono essere, io adesso non so se lasciare un stone oppure però insomma ci sono donne che hanno anche intelligenza, anche anche altre probabilmente, però quindi sviluppare intelligenza capacità di adattarsi all'ambiente capacità di adattarsi alle situazioni ovviamente ci sono tanti tipi di intelligenza no? vengono definite intelligenze linguistiche, logico-matematiche, esistenziali, naturalistiche, musicali, cenestesiche, interpersonali o intrapersonali quindi vanno sviluppate più o meno tutte le forme di intelligenza fondamentalmente perché poi l'intelligenza è sicuramente un muscolo fondamentalmente è sicuramente un muscolo che si indebolisce se non viene usato quindi le nostre facoltà le nostre facoltà cerebrali devono essere allenate se vogliamo migliorarle se vogliamo svilupparle ma come un muscolo no? i muscoli anche vanno allenati secondo me i muscoli fisici e anche i muscoli mentali quindi bisogna dedicarsi con costanza all'allenamento fisico e all'allenamento mentale allenamento fisico e allenamento mentale sono fondamentali quindi questo è un po' accrescere la propria cultura poi se ci pensiamo non è così difficile basta appassionarsi delle letture basta essere curiosi oggi diciamo che le informazioni sono più o meno libera tutte sentivo che ci sono ben 4 miliardi di persone che ogni giorno si collegano nel web e 4 miliardi di persone sono tante sono circa la metà della popolazione umana sono tante e sono poche ovviamente perché siamo in 8 in 8 miliardi e quindi però quotidianamente circa 4 miliardi di persone quotidianamente quindi anche gli altri 4 miliardi non è che saranno sempre gli stessi quindi accedere alla cultura non è così difficile come probabilmente era un tempo oggi diciamo certo richiede impegno richiede la curiosità e richiede anche di allenare la propria mente se sei una gallina che è ovvio che è una gallina gli puoi far leggere quello che vuole ma tanto non capirà niente comunque leggere libri secondo me è un punto fondamentale i saggi soprattutto ma anche romanzi manuali insomma ma anche vedere qualche film ascoltare magari sentire dei video oggi abbiamo grandi possibilità di accedere dei video non vedere la televisione è vietato vedere la televisione soprattutto qua in Italia diciamo i programmi televisivi sono l'anticultura per eccellenza ecco io direi che i media quelli tradizionali televisioni soprattutto per diventare fan fatale per sviluppare cultura andrebbero bannati totalmente andrebbero bannati totalmente come anche alcuni social alcuni vanno bene altri probabilmente ti buttano monnezza comunque devi imparare il discernimento comunque poi donne diciamo esempi di fan fatale ce ne sono tante Sharon Stone sicuramente avevo letto che Sharon Stone oltre diciamo a essere la cavallatrice di gambe più famosa di Hollywood no vi ricordate quella scena di Basic Instinct però avevo letto che Sharon Stone ha anche un coefficiente adesso credo che abbia avuto anche delle malattie comunque ha un coefficiente un quoziente di intelligenza molto alta avevo letto 160 158 quindi un punteggio molto alto ma anche Angelina Jolie comunque non è sicuramente una donna che ha un'intelligenza un'intelligenza bassa anche Angelina Jolie sì gli è avvenuto esatto esatto ci sono tantissime donne che possono essere diciamo anche anche fan fatale insomma per essere una fan fatale non basta non basta un bel corpo non basta un bel viso non basta un abbigliamento non basta un trucco ma bisogna allenare anche la mente bisogna allenare anche il linguaggio non verbale la voce ad esempio è un altro è un'altra arma di seduzione particolare delle fan fatale una voce seducente beh fa molto ci sono persone che ad esempio si innamorano anche di una voce ma si eccitano anche attraverso una voce no pensate a tutte le persone che magari hanno una conversazione si sentono quindi la voce è un altro punto fondamentale ma uno dice ma come deve essere la voce beh non deve deve essere il meno possibile stridula la la voce stridula la voce come possiamo dire è molto alta ma cinguettio il cinguettio non non piace assolutamente non è seduttivo assolutamente la voce più seducente deve essere una voce anche calda deve essere una voce come dire che fa venire un po' i brividi lungo la schiena quando la senti possiamo dire che ci si può invaghire anche di una voce ci sono persone che si innamorano anche di una voce anche senza magari conoscere l'aspetto no l'aspetto fisico della persona e poi c'è un fatto fondamentale che se senti una voce prima di vedere la persona tu in qualche modo l'associerai insomma quindi se la voce ti piace quando vedrai la persona la troverai più gradevole la troverai più più attraente fondamentalmente quindi le voci squillanti eccessivamente alte e anche le voci monotone non sono sicuramente le voci più seduttive le voci monotone possono essere utilizzate poi per altri motivi è ovvio che con la voce ci deve essere anche tutto il non verbale ad esempio se vuoi avere subito una pill molto forte fare breccia subito rapidamente emotivamente nel cuore di un uomo se ad esempio c'è un po' di rumore avvicinati avvicinati al suo orecchio sinistro però avvicinati al suo orecchio sinistro e diciamo sussurragli qualcosa all'orecchio sinistro perché ho detto l'orecchio sinistro e non l'orecchio destro perché l'orecchio sinistro è collegato alla parte destra del cervello che è la parte addetta alla gestione delle emozioni questo ovviamente per i destrimani se è mancino invece dovrete parlargli all'orecchio destro perché arriverà l'emozione alla parte sinistra del cervello ricordiamo che i due emisferi cerebrali per qualche motivo particolare nei mancini sono invertiti quindi caro pippoli sono anche gli emisferi cerebrali sono invertiti prendi nota del fatto sono invertiti anche gli emisferi cerebrali quindi il significato diciamo non è tanto il significato delle parole ma è quando tu parli all'orecchio sinistro di un uomo avvicinando la tua bocca e ovviamente si spera che tu abbia anche un profumo gradevole il profumo gradevole è un profumo il profumo gradevole è un profumo che deve essere che deve essere diciamo come possiamo dire un profumo che ti fa apparire come una donna di classe come una donna di qualità non deve essere salutiamo anche Arale un profumo pesante nauseabondo che ti fa che ti fa diciamo dormire se sei mancino le persone mancine invece è la parte come dire destra del cervello perché la parte c'è la parte sinistra del cervello che sottende proprio alle emozioni quindi evita i toni acuti e stridoli stridoli perché trasmettono ansia innervosiscono la voce veramente è un punto fondamentale gli uomini sono più attratti ad esempio dalla voce di una donna che si trova nei suoi giorni infertili per cui vabbè oramai voi siete anziane no però se magari vi ricordate quando un tempo secoli fa avevate ancora al ciclo probabilmente notavate che il vostro tono di voce nel momento dell'ovulazione migliorava perché durante l'ovulazione diciamo ci sono proprio gli ormoni femminili gli estrogeni che vanno a travolgere anche la laringe e quindi è molto importante imparare ad avere una voce ritmata una voce con un bel timbro una voce intensa con un ritmo saper prendere le pause le pause giuste evitare di fare le ocche giudive evitate le risate equine ci sono certe donne che ridono come nitrisce un cavallo e la risata equina la risata equina non seduce assolutamente nessuno quindi salutiamo anche Davie vanno tassativamente evitate risate equine vanno assolutamente evitati i toni acuti i toni striduli perché trasmettono ansia trasmettono talvolta anche aggressività la voce comunque è il modo con cui si manifesta anche l'unicità umana quindi il significato delle parole è relativo ad esempio rispetto alla giusta tonalità voi potete dire nulla ma dirlo nel modo giusto e sarete molto più seduttivi ovviamente abbiamo detto quindi la voce anche l'abbigliamento ovviamente ti fa ti rende sicuramente più sensuale più seducente ma l'abbigliamento ad esempio non andrebbe esibito cioè una lingerie sexy può essere utilizzata ma non esibita pubblicamente perché verresti ad esempio tendenzialmente verresti squalificata fondamentalmente quindi questo è un altro punto interessante che dobbiamo prendere in considerazione quindi il look unito alla voce unito a tante altre cose ti può fare apparire come una fan fatale quindi sono tutte cose fondamentali ma anche come dicevo la cultura e anche la postura la postura è un altro punto fondamentale avere una bella postura padroneggiare la propria postura padroneggiare la propria voce ovviamente ovviamente tornando un attimino alla voce se madre natura non ti ha dato una timbrica vocale sensuale puoi impararlo si può imparare basta un po' di allenamento effettuato con costanza per migliorare la tua voce per migliorare la voce è molto importante anche imparare a respirare a percepire il proprio respiro quindi sono tutte cose strettamente collegate voce respiro e altre caratteristiche articola bene le parole cerca di esprimerle fondamentalmente è ovvio che oltre alle parole che dici come dicevo è molto importante come le dici ad esempio ad esempio se se utilizzi un accento o una fase dialettica beh tenderai essere molto squalificata perché ricordiamoci che la fan fatale è soprattutto una donna raffinata è soprattutto una donna raffinata una donna che sa ad esempio come dicevo ottenere la casa in ordine che sa cucinare che sa fare un sacco di cose ma sviluppa anche la curiosità quindi articola bene le parole quando parli e devi cercare di abituarti fondamentalmente a parlare perché soltanto con l'abitudine se fai se sei sempre muta non riesci non riesci a a fare questo ovviamente non è che devi diventare una fan fatale per i catramisti i catramisti lasciare le sciampiste la fan fatale non deve avere nulla a che fare con i catramisti il linguaggio del corpo è molto importante ovviamente il linguaggio non verbale partiamo dalla stretta di mano partiamo da tante da tante cose fondamentalmente saper mandare dei messaggi sensuali è un altro punto fondamentale ritorno sempre alla nostra amica Sharon Stone Sharon Stone sempre nel film lì Basic Instinct ha saputo mandare diversi messaggi sensuali ma anche quell'altra lì che ha fatto nove settimane e mezzo Kim Basinger però devono essere abbinati cioè la sensualità essere un po' languida deve essere sicuramente abbinato anche per contrasto alla curiosità alla cultura all'intelligenza e questo è un altro punto fondamentale se vuoi veramente essere una fan fatale quindi ci sono tutte queste cose che devi utilizzare anche diventare consapevoli del linguaggio del corpo fondamentalmente ad esempio la postura mentre un uomo mentre un uomo quando sta in piedi deve tenere le gambe un po' larghe beh una donna manco in piedi deve tenere le gambe larghe cioè le donne le gambe non devono aprire soprattutto beh ovviamente quando sono sedute ma non soltanto se hanno la gonna anche se hanno la gonna lunga o se hanno i pantaloni non devono stare con le gambe aperte perché non è ma neanche in piedi devono stare mentre un maschio deve utilizzare quella postura che viene chiamata postura dell'arciere non so se avete presente la postura dell'arciere essere bilanciato col baricentro che va verso il basso le gambe leggermente aperte che è quella postura che mette il baricentro diciamo proprio nell'ombelico e ti consente di tendere l'arco nel modo migliore perché serve anche una certa forza nel tendere l'arco senza sbilanciarti quindi e poi lasciare andare scoccare perché è come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca quindi questa diciamo seduttività ad esempio l'uomo tiene le gambe aperte per avere le gambe aperte anche è una dimostrazione di tranquillità di equilibrio no? tiene la pancia in dentro il petto in fuori è una postura aperta ovviamente anche un uomo deve lavorare sul suo fisico come una donna mentre invece una donna diciamo se tiene le gambe più chiuse tende a camminare anche con le gambe più chiuse ottiene un effetto ciondolamento e questo effetto ciondolamento viene appare diciamo molto molto sensuale fondamentalmente quindi ci sono tutti dei giochi a livello non verbale che una donna può fare che una donna può fare ce ne insegniamo le nonne che una donna può fare quando interagisce con un uomo fondamentalmente e sapere osservare anche i segnali di gradimento questo è un punto fondamentale è ovvio che diciamo tu devi saper leggere anche dei segnali comportamentali ad esempio sai che fare con un uomo che in tua presenza inizia a oscillare a ciondolare a destra a sinistra come quei pupazzetti caricati a molla che oscillano da una parte all'altra perché o deve andare a pisciare diciamo che ha la vescica piena e allora questo è un altro punto di fatto ma altrimenti se no sarà impaziente di andarsene non non è sicuramente un uomo che quando tu ti avvicini tende ad andare indietro ad esempio non è neanche questo un segnale che ti gradisce quindi non è coinvolto con te mentre invece ad esempio se si avvicina se diciamo se interagisce con te cercando magari un contatto fisico ad esempio mentre ti parla ti mette una mano sul braccio eccetera sono tutte cose che possono che possono diciamo essere essere diciamo beh sì l'oscillazione femminile è molto meglio dell'oscillazione maschile perché una donna anzi una donna dovrebbe le gambe strette servono perché la fanno oscillare ma io non parlavo di ciondolamento non ci sono proprio quegli uomini che hanno lo stesso effetto parlano si muovono quando che perché è un segnale che non sono coinvolti a meno che non abbiano proprio la vescica piena allora fanno questi movimenti non sono quelli movimenti quindi imparare a leggere il linguaggio non verbale è fondamentale beh ad esempio se incontri un uomo che appena ti vede si infila le mani in tasca vuol dire che ti vuole solo trombare basta fa anche rima se appena ti vede si infila le mani in tasca vuol dire che si vuole che ti vuole solo trombare basta questa mi piace dovrei fare uno short se appena ti vede si mette le mani in tasca vuol dire che ti vuole solo trombare basta me lo dimenticherò sicuramente ma come short potrebbe essere carino se appena ti vede si mette le mani in tasca significa che ti vuole trombare basta basta se appena ti vede si mette le mani in tasca significa che ti vuole solo trombare basta le mani in tasca sono pessime ma in tasca puntano all'uccello perché cosa ha l'uomo vicino alle tasche all'uccello e quindi praticamente mettersi perché non è che si può mettere una mano sul pisello diciamo direttamente appena ti vede perché quello sarebbe il macro segnale si può anche fare ci sono alcuni che lo fanno però diciamo è sempre un po' sconveniente da questo punto di vista per cui se vuole manifestare diciamo un interesse sessuale nei tuoi confronti tende a mettersi le mani in tasca perché è un modo di indicare l'uccello oppure addirittura una cosa fondamentale quella di quelli che infilano i pollici se vedi un uomo che infila un pollice o due pollici nella cintura dei pantaloni e l'altra mano è così proprio indica il pisello indica anche un po' questo gesto qua che quindi significa anche quello che ti vuole solo trombare basta quindi quindi cerca di cogliere un po' tutti questi segnali tra l'altro tutti questi ma tantissimi altri di PNL diciamo poi ne parlerò ne parlerò come dice la nostra Sissi ne parlerò comunque nel seminario sulla PNL chi volesse seguire il seminario sulla PNL sulla PNL diciamo può fare l'abbonamento base al canale Massimo Terramasco e seguirmi lunedì e giovedì ma poi restano i video quindi ecco questa è una donna che sa gestire bene il proprio corpo che sa valorizzare la sua femminilità salutiamo Antonio senza paura di essere giudicata avrà molto più successo di una donna magari più bella ma che si muove come una mummia anchilosata se ti muovi come una mummia anchilosata perdi completamente la tua femminilità un'altra cosa fondamentale è la sinuosità del movimento quindi l'effetto muoversi come scopa con scopa nel culo ecco quella non è una donna seducente la donna che si muove come se avesse una scopa nel culo no cioè rigida così col busto rigido e cammini in questo modo come praticamente una mummia una mummia anchilosata questo diciamo è il canto del cigno della postura seduttiva è il bacio della morte della postura seduttiva non devi sembrare una mummia anchilosata con la scopa nel culo ringraziamo Arale brava Arale ricordo che chi volesse fare una donazione può fare la donazione diciamo come ha fatto Arale e dare un sostegno al canale le donne culturiste no perdono femminità anche se ci sono alcune categorie mi sembra che siano non le fitness ma le bikini ma anche qualcosa di meno delle bikini ci sono alcune categorie di fitness che non sono sicuramente donne culturiste ma che fanno fitness che quelle invece sviluppano sono un corpo muscoloso tonico ma ma sensuale quindi dipende dalle categorie ci sono salutiamo anche Keizzar ci sono delle categorie adesso non ricordo esattamente quali sia la categoria se la bikini o la fitness sicuramente sono muscolose ovviamente la categoria open del bodybuilder la categoria open del bodybuilder sono disastrose le powerlifter sono disastrose anche anche se ce n'è qualcuna di powerlifter anche abbastanza graziosa ma diciamo c'è questa categoria non mi ricordo del bodybuilding che fa parte del circuito del bodybuilding ma mi sembra che praticamente sono magre muscolose e hanno un fisico molto molto bello ecco un fisico e perché poi tra l'altro in queste esibizioni devono manifestare anche femminilità infatti le esibizioni sul palco le fanno con i tacchi con i tacchi alti quindi esibiscono è una categoria diciamo dove ci sono donne comunque graziose ma ovviamente una donna deve saper gestire bene il proprio corpo deve saper valorizzare la propria femminilità non deve avere paura di essere giudicata e deve e deve diciamo muoversi nel modo migliore ovviamente non ho parlato ne ho parlato ampiamente in un'altra live dello sguardo lo sguardo è un altro punto molto importante lo sguardo è un altro punto è un altro punto molto importante la prima occhiata ad esempio deve essere accattivante ma non deve essere invadente no una fan fatale la prima occhiata deve essere devi essere più una gattina che una panterona non so come dire devi essere più una gattina che una panterona quindi diciamo anche i tatuaggi per carità oggi vanno di modo i tatuaggi no ma io li limiterei i tatuaggi poi ci sono donne che magari ne hanno tante ad esempio la nostra amica Penelope Wengo la nostra Penelope ha tanti tatuaggi a me sinceramente non piacciono no sinceramente non piacciono sì se si tratta di un tatuaggio piccolino due piccolini ma la bikini eh sì potrebbe essere la bikini sì adesso non mi ricordo la bikini sicuramente non la fitness può essere la bikini o c'è forse una categoria in cui sono ancora più meno della bikini adesso non lo so se questo è diciamo però sicuramente nella bikini sono graziose insomma sono carine ma forse c'è qualcosa ancora di più easy della bikini però devo controllare però la bikini sicuramente è una categoria dove ci sono donne molto molto belle quindi stavo dicendo è molto importante no come dire devi essere più una gattina che una panterona fondamentalmente anche il sorriso è molto importante anche un sorriso enigmatico anche un sorriso enigmatico la categoria zampogna voi ecco dicevi i tatuaggi i tatuaggi secondo me perché mi sono perso poi sui tatuaggi non sono molto femminili non sono molto femminili i tatuaggi se uno ne ha uno piccolo due piccoli tre piccoli ma i tatuaggi in generale non perché una donna con tanti tatuaggi a me sembra un ex galeotta è vero che una volta diciamo oppure una volta quando ero giovane io nel secolo scorso i tatuaggi dei maschi ce l'avevano praticamente soltanto gli scaricatori del porto o gli ex galeotti fondamentalmente o i magnacci cioè se tu eri tatuato quando ero ragazzo io o facevi appunto il catramista che all'epoca il catramista qua a Savona era lo scaricatore del porto il camallo i cosiddetti camalli i camalli del porto e invece diciamo che invece oppure i magnacci o gli ex galeotti mentre le donne tatuate erano ex galeotte o mignotte che fa pure rima donne con con tatuaggi tanti tatuaggi erano ex galeotti o mignotte oggi ovviamente è cambiato però come dire questo questo è non i cammelli i camalli che i cammelli i cammelli sono animali i camalli sono gli scaricatori del porto camallare significa portare le vecchie le vecchie tatuate al bar le vecchie mignotte no non le conosco quelle però perché lo ano ci vado poco cioè non è che mi capita spesso di andare allo ano ci andavo da ragazzo d'estate a rimorchiare però comunque il sorriso è un altro punto importante fondamentalmente no sì ci sono anche le vecchie tatuate nei vicoli di Genova e comunque anche le vecchie tatuate anche le vecchie tatuate nei vicoli di Genova le vecchie puttane di un tempo che adesso hanno 80 anni non so se praticano ancora il mestiere nella città vecchia come diceva come diceva il nostro Fabrizio D'Andrè nella città vecchia di Genova e quindi il sorriso deve essere appena accennato non devi sembrare diciamo non deve neanche essere un sorriso tipo quello che non so di mortissia no perché se hai il viso di mortissia e hai il sorriso mortifero cioè non devi avere l'alito del morto fondamentalmente no perché se il tuo sorriso e quindi il tuo alito e l'alito del morto non riesci a sedurre ovviamente ovviamente non riesci a sedurre ovviamente nessuno no quindi i capelli sono anche importanti fondamentalmente ecco i capelli per una donna sono qualcosa di importante i capelli dovrebbero essere folti perché se i capelli sono folti sono lucidi lucenti che stanno in salute devono essere come dire ti fanno apparire come una donna più giovane come una donna più sana e quindi come una donna più attrente meno male che questa regola non vale tanto per gli uomini perché se uno sembra sano se hai i capelli folti io sarei praticamente in punto di morte con i miei capelli ma fortunatamente per l'uomo non c'è questa cosa insomma ovviamente ci sono tutte queste cose che ti fanno ad esempio inclinare la testa un gesto molto sensuale per una donna inclinare la testa su un lato scoprirsi il collo spostarsi i capelli scoprirsi il collo perché il collo questa parte del collo è comunque una zona erogena secondaria ed è molto sensuale anche la camminata deve essere leggermente ancheggiante ma non puoi sculettare senza ritegno sculettare come se ci fosse un domani non va bene perché anche qua inneschi meccanismi di squalifica devi muovere morbidamente i fianchi no devi muovere morbidamente i fianchi e non sculettare senza ritegno muovere i fianchi perché devi diciamo considerare non riesco più a lavorare cazzo perché se se tu sculetti senza ritegno poi ovviamente la triademistica devi comunque curarla la fan fatal come tutte le donne di classe non deve assolutamente fumare le donne che fumano sono soltanto sciampiste e quelle sia che fumano sigarette normali sia che fumano altri tipi di sigarette fumano solo le sciampiste le fan fatal non devono assolutamente fumare ad esempio per la camminata per le donne che fanno tango ecco ad esempio nel tango tango argentino intendo nel tango argentino viene insegnata proprio a camminare alle donne anche agli uomini ovviamente quindi ad esempio tra i balli diciamo il tango argentino è quello che secondo me dà più come possiamo dire dà più dà più sensualità fondamentalmente quindi il tango argentino insegna proprio a camminare ma poi molto più di altri balli fondamentalmente poi ovviamente non so il burlesque ad esempio un po' di strip qualcosa può essere utile ovviamente non è che sia fondamentale anche il gatto esatto anche il gatto la testa piegata da un lato è molto seducente il gatto la testa piegata da un lato è molto molto seducente è vero anche i gatti lo fanno poi ovviamente devi valorizzare anche la triade mistica che sono cosce, tette e culo sicuramente cosce, tette e culo sono la parte anatomica preferita dagli uomini quindi servono per attirare però non è che devi andare con la minigonna inguinale o con le tette di fuori o con il culo devi, diciamo intanto come dire le natiche devi averle perché se c'hai il culo piatto ci sono donne che hanno il culo piatto e hanno la pancia perché mangiano quindi non devi non devi avere non devi avere il culo piatto e la panza quindi se hai il culo piatto devi necessariamente andare in palestra a fare esercizi soprattutto lo squat lo squat è uno di quegli esercizi che in palestra serve molto a tonificare il muscolo è comunque serve molto a tonificare il muscolo quindi è fondamentale ovviamente contrare i muscoli è molto importante no? ma devono esserci muscoli altrimenti se te cerchi di contrare qualcosa che non c'è rischi solo che ti vengano dei crampi e che resti lì anch'ilosata che resti bloccata che ti viene il colpo della strega che che ti distrugge fondamentalmente quindi questo è tutto è tutto da prendere in considerazione no? quindi è è fondamentale questo poi ovviamente ad esempio un esempio di sensualità anche un po' nell'abbigliamento secondo me era quell'attrice credo che fosse quell'attrice degli anni 20 che non so se vi ricordate era Marlene Dietrich tu Patrizia che sei anziana dovresti conoscerla Marlene Dietrich Marlene Dietrich che era un'attrice degli anni 20 quando negli anni 20 la nostra Patrizia Perotti era nel pieno diciamo della sua bellezza scherzo ovviamente negli anni 20 però c'era Marlene Dietrich che non so se aveva fatto anche qualche film muto era era veramente un'attrice diciamo molto molto sensuale anche come abbigliamento come cose poi fosse lesbica non lo so ma Marlene Dietrich era comunque un'attrice molto molto interessante sì la nostra Patrizia è senza tempo è senza tempo ecco queste sono un po' erano le mie cari amiche esatto le altre delle dritte la nostra Marlene Dietrich e quindi queste sono un po' le cose fondamentali insomma per diventare una fan fatale bene mi sono accorto solo ora che ho quasi ho sforato volevo fare una live di mezz'ora l'ho fatta quasi di un'ora quindi mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanella ho sforato di brutto ho detto faccio una live di una mezz'oretta invece poi a parlare di cosce tette e culo diciamo ho sforato di brutto